Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di via Umberto II. Le fiamme hanno divorato un bombezzo del canneto fluviale che costegge il fiume Salso. Dense e alte le nubi di fumo sprigionate dalla combustione con disagi momentanei anche per la circolazione automobilistica che nell'arteria è sempre particolarmente intensa. Sul posto si è portata una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che ha dovuto faticare a lungo prima di domare completamente le fiamme. Tempestivo è stato anche l'intervento dell'ufficio comunale di protezione civile e di un gruppo di volontari che hanno collaborato alla gestione delle prime fasi del rogo in attesa dell'arrivo dei pompieri. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'ingendio, anche se appare davvero improbabile che possa essersi trattato di una combustione di natura accidentale. Nel luogo dove è divampato il rogo sono stati ritrovati infatti diversi copertoni in gomma avvolti dalle fiamme. Il rogo di ieri, che avrebbe potuto creare non pochi problemi se non domato in tempo, ha riportato a Gallo il problema legato alla gestione degli incendi. Il distaccamento della forestale che opera a Licata ha infatti attualmente il mezzo preposto allo spegnimento degli incendi in manutenzione e pertanto un rogo esteso potrebbe avere conseguenze terribili.